Voglio dire che io spingendo il timone verso di me praticamente la barca gira. Devi tornare alla posizione che eri adesso con le mura, mura si chiama biancati per la barca, dall'altra barca a sinistra. Gira, 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 gira. Me la rimetto praticamente quando è a 50 gradi. Mi fermo a 50 gradi praticamente, e sto risalendo. Adesso passo dalla rotella piccola, non lo puoi sforzi per niente. Non lo fa fatica per niente. Poi ti chiami che non mi ricordi.